giusto, bellissimo. Camilla Nata è una giornalista che si occupa di gastronomia, di agricoltura, di enogastronomia da tantissimi anni ed è una delle inviate di punta del pomeriggio di Rai 1 da moltissimi anni e gira per gli stand di Vinitaly con un tacco 12. Notare, siamo a Vinitaly dove normalmente tutti portiamo delle paperelle, Camilla arriva così, ma più glamour di questo tacco che cosa ci può essere? Dobbiamo salvaguardare la femminilità sempre, io sono un'assidua sostenitrice di tutto ciò, tra l'altro ho anche un vantaggio, ho iniziato a fare danza sulle punte da piccolina, avevo sei anni, per cui 12 anni di danza sulle punte vi garantisco che il tacco è un vero toccasana perché il peso del corpo stava tutto sulle dita dei piedi e quindi adesso invece sta tutto sulla pianta e la pianta è un po' più larga delle dita. Senti, ma questo tacco 12 con cosa lo possiamo abbinare? Beh, io direi che oggi abbiamo tutti gli ingredienti essenziali per il fattore G, che cos'è questo fattore G? Allora, è un fattore che si adatta benissimo alle bollicine del Prosecco, intanto... G come garantito? No, come glamour, diciamolo, un tubino nero classico che nell'armadio sta bene e va bene in tutte le stagioni e va bene anche per tutte le occasioni. Un tacco che se non è 12 va bene anche 8 non c'è problema e poi un calice meraviglioso che fa sognare perché le bollicine del Prosecco della zona di Conegliano fanno veramente sognare. Evviva!